Bella a tutti ragazzi qui Teddy, prima di iniziare con il video vi ricordo che questi sono i miei social ufficiali tutti i link sono in descrizione in aggiunta, cosa molto importante, patreon.com slash tad93 patreon è un sito dove con un abbonamento mensile potete supportare il canale economicamente con un abbonamento fisso, ovvero ci sono vari tier che trovate nella sezione abbonamento ci sono 6 tier al momento, ognuno con un prezzo fisso mensile ma con molti molti bonus link sempre in descrizione per valutarli Bella a tutti ragazzi qui Teddy, benvenuti a un nuovo video qui sul canale allora oggi parlo un pochino più a bassa voce perché ho la mia ragazza di là che sta lavorando quindi non voglio disturbarla come al solito vi chiedo un like, un'iscrizione se non siete iscritti al canale e di attivare le notifiche per quanto riguarda il canale il like perché mi aiuta tantissimo per quanto riguarda l'algoritmo di youtube se ritenete che i miei video siano interessanti e siano meritevoli di essere visti da più persone i like appunto mi mettono più in alto nella ricerca di youtube per quanto riguarda appunto il mondo di NBA Italia e di conseguenza vengo raggiunto da più persone l'iscrizione ovviamente perché se non volete perdere nessun video e ritenete che i miei video siano abbastanza informativi da continuare a guardarli e per quanto riguarda invece la campanella è per non perdervi il video quindi appena esce vi arriva la notifica se funziona perché alcune volte non funziona sappiamo come funzionano queste cose però per l'appunto vi arriva la notifica e siamo pronti per partire allora vi dico un'altra piccola cosa prima di partire definitivamente con il video la webcam tornerà una volta che avrò fatto il trasloco nella nuova casa che avrò settato il mio ufficio tra chiamiamolo ufficio cioè una stanza dove appunto mi chiudo dentro e registro senza essere insomma in camere condivise sarà una stanza mia e quindi ritornerò la webcam rimetterò le magliette appese probabilmente cercherò di rendere un pochino più bello l'ambiente in modo da essere presentabile ecco perché in questo momento il background è un divano una finestra il sole che sostanzialmente accecherebbe la webcam e quindi accecherebbe me risulterei praticamente tipo quando nei film c'è la finestra luminosa e c'è l'ombra che parla davanti alla finestra uguale sarà identico quindi poi tornerà anche la webcam però adesso possiamo partire allora possiamo partire dicendo che cosa possiamo partire dicendo che questo è un video sui Washington Wizards e prima di passare alla trade che avete visto che è la prima trade appunto di cui andremo a discutere vediamo un po' la situazione attuale dei Washington Wizards perché comunque sono 8 milioni sotto la tassa e questo è molto importante per quanto riguarda lo sbloccare la non taxpayer mid level exception per quanto riguarda invece il roster abbiamo delle scelte da prendere perché abbiamo un'estensione di Kuzma scusate di quella merda di Kuzma un'eventuale estensione di Kristaps Porzingis o comunque rifirme chiamiamole così perché è più corretto dire rifirme di Kuzma e di Porzingis c'è ovviamente il contrattone di Bill che io credo oramai Washington si sia resa all'idea che deve tencare deve rebuildare deve ricostruire è vero la pick 2024 dei Washington Wizards ce l'hanno i New York Knicks quindi attenzione perché ovviamente Washington non avrebbe la sua pick in caso di rebuilding però potrebbe scambiare Bill per pick molto future di altre squadre e pensare al futuro lontano piuttosto che al futuro prossimo altrimenti quali sono le altre strade? le altre strade sarebbe migliorare Washington ma come? beh facendo un sign and trade di Porzingis con qualche altro giocatore io vi dico subito che in questo scenario non ho migliorato Washington secondo me non c'è modo di migliorare questa squadra per renderla da titolo Bill non è un alfa, Bill non è un giocatore che ti porta un titolo deve arrivare, dovrebbe arrivare un giocatore alfa, un giocatore più forte di lui cosa che in questo momento è estremamente impossibile quindi se io fossi Washington ricostruirei nonostante non ho la mia pick 2024 che ce l'ha New York e attenzione potrei potrei aver messo New York in una delle prossime trade col tentativo magari di riprendere quella pick di conseguenza Washington dice sì, va bene, voi avete la nostra pick bene, vi diamo Bill cioè voi volete Bill, no? bene, ridatemi la mia pick e discutiamo su poi cosa potete darmi di ulteriore per Bradley Bill potrebbe anche funzionare così, no? quindi New York cede una pick potenzialmente altissima del 2024 però per andare a prendere Bradley Bill quindi sarebbe un baratto tutto sommato plausibile qualora New York decidesse di andare in questa direzione comunque come vedete il contratto di Gafford è molto buono vi ricordo che il salary cap nei prossimi anni aumenterà ulteriormente si andrà sopra i 140 milioni probabilmente sopra i 150 milioni nel 2025-26 di conseguenza il contratto di Gafford è letteralmente ridicolo poi ci sono un paio di scadenze in Monte Morris e Delon Wright che verranno mossi quasi sicuramente perché Morris vuole i soldi e Wright insomma scade quindi verranno probabilmente mossi o comunque si cercherà di trasformarli in pick al secondo giro o qualcosa del genere e poi il resto della squadra obiettivamente molto molto deludente a partire dal chiacchieratissimo Danny Avdija o Avdija che pareva sul radar dei Golden State Warriors quando poi hanno scelto Wiseman il draft è lo stesso il problema è che non ha mai performato minimamente a livello di una pick 9 7 Avdija 7 o 9 9 esatto ricordavo bene voglio dire 9 punti 7 rimbalzi 6 rimbalzi 3 assist PR molto basso insomma non proprio un Wonder Boy ecco diciamo così un giocatore che forse addirittura io io la butto lì a me sembra che Avdija quando avrà finito il contratto del 2023 tornerà in Europa vi dico questo non lo so ho questa sensazione non credo rimarrà credo farà la fine di Ezzonia se devo trovare un giocatore simile direi Mario Ezzonia ok comunque partiamo subito perché come vi dicevo in un vecchio in uno scorso video i Nuggets secondo me dovrebbero tradare Michael Porter Jr sono avanti 2-1 alle Finals si gioca tra qualche giorno gara 4 probabilmente andranno 3-1 almeno la proiezione è quella però non deve accontentarsi il front office dei Nuggets Michael Porter Jr sta dimostrando di essere un giocatore troppo altalenante e soprattutto inguardabile in difesa ed è una cosa che Mike Malone impazzisce nel vedere queste cose davvero per carità Porter Jr è un fenomeno offensivo può segnare in tutti i modi però non basta cioè devi anche non dico difendere però quantomeno le rotazioni difensive i close out cioè devi farli lui neanche quello fa lui davvero cioè proprio non si muove in difesa ci sono clip che potete trovare su internet dove letteralmente Porter Jr non si muove nonostante debba fare un close out nonostante la rotazione sia sua non si muove è ferma è un palo è come se non è che non avesse voglia è come se non capisse quello che deve fare in difesa e per i Nuggets che vogliono confermarsi per il titolo comunque se in maniera clamorosa non dovessero vincerlo quest'anno il titolo comunque vorrebbero rimanere attivi anche per i prossimi anni considerando appunto che i Suns stanno passando attraverso una rivoluzione che potrebbe anche non migliorarli tutto sommato e attenzione i Lakers bisogna vedere cosa devono fare i Clippers vinceranno mai quei due insieme se si infortunino sempre è un po' difficile Dallas che fa con Kyrie o Kyrie che fa con Dallas perché qui ovviamente è bionivoca la cosa i Grizzlies Morant quante partite salta 50-60 un anno e poi come la franchigia che fa lo tiene lo taglia cioè nel senso anche la franchigia lo punisce quindi che ne so 50 gliene dà Silver e le altre 32 gliele dà Memphis di punizione più tutti i playoff quindi saltano l'anno intero cioè nel senso è un Ovest indeciso incerto la certezza in questo momento è il roster dei Nuggets i Nuggets hanno i giocatori principali tutti a contratto pluriennale che si pia due anni Gordon è pluriennale Jokic è pluriennale incedibile Murray è pluriennale incedibile l'unico giocatore che perderanno è Bruce Brown perché ha una player option da 7 milioni ma sicuramente la rifiuterà per andare a prendere soldi da qualche altra parte quindi perderanno probabilmente Bruce Brown a meno che non si riduce l'ingaggio termine calcistico perdonatemi però è per far capire subito immediatamente la situazione in questo momento i Nuggets hanno accesso solamente alla taxpayer mid-level exception e quindi o Bruce Brown accetta quella oppure rifiuta la player option e va a prendersi soldi da qualche altra parte di conseguenza se i Nuggets considerano che Michael Porter Jr nonostante l'abbiano atteso nonostante abbia fatto vedere comunque che è un 20-25 facile quando è in serata però ha veramente una riluttanza difensiva sconcertante è chiaro che per una squadra a titolo che vuole confermarsi per il titolo non può difendere in uno in meno tecnicamente soprattutto se sei un giocatore che non sei né il primo né il secondo violino di una squadra si può magari capire Steph si può capire Lebron si può capire Durent si può capire Luca che comunque sono giocatori che sono prima opzione offensiva delle rispettive squadre e di conseguenza devono anche per facilitare i compagni in fase offensiva magari si prendono qualche pausa difensiva e gli altri difendono perché poi in attacco ci pensano loro per Michael Porter Jr. non è così perché comunque la palla arriva a Jokic ed è lui quello che gestisce amministra smazza e segna se necessario perché noi consideriamo Jokic il miglior passatore tra i lunghi della storia NBA ed è scontatissimo non si parte neanche a discutere però io andrei ulteriormente io credo che Jokic sia il giocatore più dominante della storia NBA a livello di lunghi quanto meno perché poi a livello di guardiali ovviamente la lista si allunga ma per quanto riguarda i centri non c'è stato un centro così dominante come Jokic nella storia NBA si può essere in disaccordo possiamo discuterne qualcuno potrebbe dirmi Chamberlain qualcuno potrebbe dirmi Shaq ma a livello di percentuali di efficienza dal campo a livello di tiri liberi a livello di gioco da fuori a livello di gioco da dentro a livello di visione di gioco a livello di rimbalzo a livello di anche difensivo perché comunque Jokic certo non è Olajouan a livello difensivo però comunque il suo lo dà a differenza di Michael Porter io reputo Jokic il centro più dominante della storia NBA dopo questa cavalcata playoff lo è al 100% non ho dubbio a riguardo torniamo per quanto riguarda la trade di conseguenza i Nuggets prendono Bradley Bill sarebbe Marry KCP Bill Gordon Jokic sarebbe un quintetto stratosferico fantascientifico per certi versi sulla carta ovviamente il fatto che Bill sia un giocatore molto simile a Jamal Murray parliamoci chiaro Bill è quel giocatore è uno scorer che può giocare il pick and roll non ha ovviamente l'assist ma non andrebbe ai Nuggets a fare assist quello ci pensa Jokic ci pensa Aaron Gordon Bill andrebbe a fare il terzo scorer cioè Jokic ha un matchup particolarmente difficile non è in serata Jamal non è in serata ci pensa Bill cioè sarebbe un arsenale offensivo veramente veramente difficile da contenere per quanto riguarda il resto della NBA a livello difensivo ovviamente non arriva Pippen però ripeto Michael Porter Jr è il nulla in fase difensiva Bill è quasi nulla quasi nulla è meglio del nulla ok quindi se consideriamo la difesa dei Nuggets e ci mettiamo al posto del nulla il quasi nulla considerando che c'è comunque KCP che può difendere al posto degli altri due e Gordon è tra virgolette diventato uno specialista difensivo e in attacco sostanzialmente è un collante un giocatore che può ricoprire varie posizioni proprio fisicamente in campo cioè può stare nel dunking spot può stare fuori può stare in post alto può stare in post basso cioè nel senso puoi metterlo un po' dovunque che lui qualcosina sa fare più o meno ovunque è chiaro che a livello difensivo migliorano a livello offensivo rimangono uguali ma la fase offensiva dei Nuggets non è certo il problema alla fine cosa ci andrebbero a smenare ci andrebbero a smenare la 29 non protetta ovviamente perché qualcosa di devi dare ai 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 Wizards sicuramente due pick swap al primo giro ovviamente la più favorevole la prendono i Wizards e la meno favorevole la prendono i Nuggets qui ho invertito scusate la more favorable va ai Wizards e la least favorable ovviamente è il contrario scusate ho sbagliato a mettere comunque la più favorevole va ai Wizards la meno favorevole va ai Nuggets e perché ho messo in mezzo Dallas ho messo in mezzo Dallas perché comunque Dallas deve dare anche lei una una sfoltita a quel roster di contratti brutti deve dare una sfoltita anche a livello proprio di gioventù noi parliamo tanto che Doncic deve vincere adesso subito immediatamente ma se invece Dallas si prendesse ancora del tempo per cercare un miglioramento a livello giovanile a roster di conseguenza cosa succede siccome i Wizards sono in modalità svendita totale a sto punto Bullock impresentabile via Tim Hardaway se ritorna Kyrie e c'è Doncic Tim Hardaway è assolutamente inutile quindi via sacrificherebbero la pick numero 10 ora la pick numero 10 è data come Houser Thompson almeno in questo mock draft viene dato il fratello di Amen Thompson che invece è proiettato top 5 borderline top 5 alcuni lo mettono alla 4 al posto di Whitmore alcuni lo mettono alla 6 alcuni lo mettono alla 5 insomma tra la 4 e la 6 realisticamente andrà Amen Thompson il fratello Houser Thompson che è un sostanzialmente è un mostro a livello atletico è veramente un fisico scultore o scolpito aveva molti difetti al tiro su cui ci ha lavorato quello è sicuro però alla 10 dovrebbe andare Houser Thompson che comunque rispecchia un ruolo di guardia che i Washington Wizards andrebbero a perdere e che i Dallas Mavericks ovviamente non avrebbero bisogno di andare a prendere perché tra Carie e Donchic non hai bisogno di quella pick 10 ovviamente questa pick questa scelta questa trade scusate può essere fatta solamente dopo il draft perché Dallas deve scegliere però vi dirò di più se Dallas sceglie la 10 e tiene la pick la mia prediction per la pick numero 10 non è Houser Thompson ai Mavericks ma è Derek Lively Lively è un centro di Duke grosso un'ancora difensiva pazzesca io dico attenzione attenzione a Derek Lively e le sue quotazioni perché secondo me potrebbe salire molto in questo draft realisticamente delle squadre che scelgono prima della 14 dove è proiettato a livello di centro effettivamente serve solamente ai Mavericks perché vabbè le prime 3 sono scontate i Rockets hanno Sengun i Pistons hanno 18 centri i Magic hanno Banchero hanno Wendell Carter quindi non è richiesto i Pacers hanno Miles Turner e potrebbero avere Eiton se si va in quella direzione i Wizards con la 8 avrebbero hanno Gafford e probabilmente rifirmano Porzingis quindi il lungo tecnicamente non serve i Jazz ovviamente hanno la sorpresa di quest'anno e mi sfugge il nome di quel porco Madonna mi sfugge il nome scusatemi il centro bianco dei Jazz il loro centro titolare bianco mi sfugge il nome scusatemi magari mi viene in mente dopo no scusate aspettate un attimo mi vergogno da solo perdonatemi proprio un lapsus un attimo solo veramente mi vergogno scusatemi davvero dove cazzo è dove sei eccolo qua Walker Kessler non mi veniva in mente il nome quindi Jazz hanno Kessler e i Mevs non hanno nessuno perché Wood probabilmente se ne va o fanno sign and trade e rimane già Val McGee quindi secondo me alla 10 se Dallas sceglie e tiene la pick sceglie Derek Lively invece se dovesse avvenire questo tipo di trade diciamo cosa succede i Mavericks chiamano i Wizards e chiedono che giocatore volete alla 10 che vi mandiamo la pick i Wizards dicono guarda ci va bene Hauser Thompson allora i Mavericks scelgono Hauser Thompson e poi la girano ai Washington Wizards però perché sacrificare Hardaway Bullock e la scelta 10 per Morris Gafford e Avdija allora innanzitutto la pick numero 10 sarebbe solamente per Gafford ok e per Monte Morris comunque Morris e Gafford non sono due pessimi giocatori Morris ha mercato Gafford ha un contratto ridicolo è un giocatore che secondo me serve ai Dallas Mavericks giocatore di rimbalzo di grinta di cazzimma di sportellate che ovviamente è il prototipo di lungo che va bene a Donchic nonostante secondo me un altro tipo di lungo dovrebbe essere messo a fianco a lui però Gafford è Giaval McGee ma più giovane più capace più con intensità più alta insomma è secondo me un centro che in questo momento a Dallas potrebbe fare comodo Monte Morris ovviamente è una backup point guard di tutto rispetto dalla panchina se poi Cari dovesse andare via anche come titolare onestamente Morris Donchic non li vedo così male insieme Avdija sarebbe come dire il giovane disperato che va a Dallas e magari con Donchic cozza meglio trovano un'alchimia di squadra migliore magari anche Avdija stesso fuori dal sistema di gioco dei Wizards e in un altro sistema di gioco come quello di Jason Kidd magari Avdija ha più spazio più responsabilità si trova meglio performa meglio e avendo 22 anni comunque potrebbe evitare di fare la fine di Ezonia come ho pronosticato prima ovviamente sacrificando la pick numero 10 sembra tanto me ne rendo conto però dovete anche pensare a questo Bullock è un annuale a 10 milioni per un giocatore che non si regge in piedi Tim Hardaway è un giocatore di un'altalenanza imbarazzante uno shot chaker disgustoso quindi Tim Hardaway non ha mercato particolare Bullock men che meno è chiaro che comunque vai a prendere Montemoris che secondo me è meglio sia di Hardaway che di Bullock ti porti a casa Gafford che è giovane 24 anni anche lui è il prototipo di lungo che secondo me ti serve perché anche in questa free agency si c'è Brooke Lopez però c'ha 35 anni 36 anni anche lui cioè per Dallas avrebbe secondo me poco senso andare a prendere giocatori di quell'età con Doncic ti fai magari un altro 1-2 anni a fare i playoff a cercare un'alchimia di squadra ma Brooke Lopez non credo sia un giocatore che potrebbe essere un colpo dei Dallas Mavericks mettiamola così per Dallas sarebbe sostanzialmente un ringiovanire la squadra ovviamente questo se Kyrie non rifirma cioè se Kyrie va via a sto punto potrebbe anche andare sta trade però ecco Washington abbassa il Montesalari visto che deve rifirmare Kuzma e Porzingis i Nuggets ovviamente si rinforzano e Dallas sostanzialmente svende due contratti brutti la pick 10 che però alla fine se ne fanno poco tra virgolette e prendono due giovani come Avdija e Gafford di cui Avdija in questo momento poco appetibile però si sa mai Gafford un pochino più certezza e Morris è un giocatore che poi possono rifirmare perché comunque non è un cattivo giocatore diciamo non è sicuramente Curry per carità però non è neanche Reggie Bullock per dire quindi secondo me sia i Wizards che i Nuggets che i Mavericks potrebbero fare questa trade staremo a vedere potrebbe potrebbe succedere comunque ovviamente noi ci concentriamo più sulla parte dei Nuggets quindi Bill andrebbe a Denver insieme a Jokic e Murray in questa ipotesi di trade come vi dicevo in apertura ovviamente vi dicevo chissà se ho messo i Knicks in questa in questa situazione e ovviamente ho messo i New York Knicks ora c'è uno split che possiamo fare ovvero qualcuno come dicevo in apertura può dirmi sì ma a sto punto Washington si riprende la pick e va bene però dall'altra parte qualcuno mi dice eh no i Knicks gli danno certo un fottio di pick però si tengono quella dei Wizards perché perché i Wizards tencando eh mica scemi i Knicks si tengono la pick ora secondo me allora qui ho tolto Kuzma e Porzingis ho declinato tutte e due le player option perché alla fine declineranno entrambi la player option però se vogliamo essere realisti se avviene sta trade i Wizards si riprendono la pick e New York si tiene la propria e pace e pace all'anima loro e fanno questa se vogliamo essere realisti quindi parlando della parlando della della trade allora i Knicks prendono i due contratti in scadenza di Montemoris e DeLon Wright e ovviamente il contratto di Bradley Bill risparmiando pure soldi perché perché ovviamente danno il contratto di Derrick Rose che i Wizards possono declinare come team option e quindi poi Rose diventa free agent e risparmiano con i 15 milioni ovviamente prendono il contratto osceno di Mr. 20 punti nelle mani ovviamente i tre giovani in questo caso sono Barrett Grimes e Toppin e poi arrivano un fottio di scelte perché arriva la pick ritorna la pick 24 dei Wizards arriva la pick 2024 dei Dallas Mavericks che sulla carta questa volta dovrebbe convertirsi ricordo che la pick di Dallas è protetta 1-10 anche per l'anno prossimo quindi se Dallas sceglie nelle prime 10 anche l'anno prossimo si tiene la pick altrimenti dalla 11 alla 30 va a New York in questo caso andrebbe a Washington siccome Dallas è proiettata ai playoff quantomeno l'anno prossimo comunque play-in o comunque insomma non nelle ultime 10 squadre NBA quella pick diventerebbe da una 11 a una 30 però è sempre una pick poi i Knicks danno la loro 2025 che con Bill Branson magari va male magari va bene non si sa io onestamente con questa squadra con questi Knicks quella 2025 potrebbe essere anche una 14 13 obiettivamente la 2027 ovviamente per regola Statian la 2027 è protetta in top 5 mentre invece nel 2029 è un pick swap di conseguenza Washington tiene la libertà di scegliere meglio di meglio dei 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 Knicks mentre invece nel 2027 la pick rimane protetta quindi nel 2027 se i Knicks scelgono in top 5 se la tengono altrimenti dalla 6 alla 30 va ai Wizards perché tutto questo sostanzialmente beh allora Grimes Toppin e Barrett obiettivamente non valgono Bill messi insieme Fournier e Rose sono contratti di cui i Knicks vogliono liberarsi e quindi c'è il favore che viene fatto ovviamente il controfavore sarebbe che Washington si riprende la pick quindi possono tencare liberamente la pick di Dallas è una 11-30 diciamo che sulla carta dovrebbe essere una 18-20 15-17 se Dallas vai playoff slash playin comunque siamo in quel range la 2025 dei Knicks i Knicks comunque sono una squadra che sarebbero da playoff quindi anche la 2025 dei Knicks comunque non è una pick bassissima diciamo quindi si può anche non mettere protezione nel 2027 invece è Bill è l'ultimo uno di contratto quindi se i Knicks vogliono tencare se la tengono però nel 2029 c'è il pick swap quindi comunque Washington cioè l'ottica di Washington qual è Washington dice allora io mi assorbo due contratti che ovviamente ti fanno schifo e va bene tu mi ridai la mia pick e va bene perché io ti do Bill poi mi dai una scelta via Dallas che alla fine è da una 11 a una 30 realisticamente dalla 18 alla 21 22 quindi non è una grandissima pick nel 2025 sei proiettato comunque ad avere Branson Bill come core e ci sono altre due free agency comunque se Bill va a New York magari qualche free agent finalmente ci va a i Knicks quindi la tua pick probabilmente non è bassa è alta pure la tua sarà anche questa tra la 18 la 20 tra la 16 e la 22 insomma quel range lì e quindi non è neanche una bella pick nel 2027 mal che mi va è una 6 però nel 2029 facciamo il pick swap cioè nel senso è la garanzia che i Wizards hanno per la trade di Bill i Knicks cosa andrebbero a fare i Knicks andrebbero a ovviamente mettere uno scorer finalmente in quella squadra perché nel 2023 non si può andare avanti a 80 punti a partita io ho visto la serie con Miami i Knicks non avrebbero segnato neanche se avessero tirato con una pallina a tennis in una piscina olimpica Bill è quello scorer alla Carmelo Anthony se vogliamo intenderci cioè andrebbe lì a fare il Carmelo cioè un giocatore che ne mette 30 a partita e difendono gli altri Montemorris sarebbe un eccezionale pick dalla panchina De'Lon Wright per liberare comunque posto a roster per i Wizards beh i Knicks salirebbero di colpi con questa trade sicuramente perché alla fine due contratti sono inguardabili quelli di Rose e Fournier quindi alla fine perdono RJ Barrett che a New York vogliono dargli fuoco Grimes e Toppin vabbè Toppin sempre sul mercato quindi non è che ci smerano chissà che cosa Grimes onestamente non ricordato come la seconda venuta di Steph Curry e le pick alla fine comunque tutto sommato sono tante però voglio dire neanche così incredibili perché questo? perché alla fine ho ritenuto che Barrett Grimes e Toppin più comunque il riprendersi la propria pick sia già sufficiente nel senso che Washington può tencare in tutta tranquillità riprendendosi la pick comunque è un grosso favore che i Knicks fanno a Washington perché i Knicks possono dire no caro ti do tutto il resto delle pick però la tua me la tengo io così se vuoi tencare io ho una pick dalla 1 alla 4 alla 5 probabilmente e mica soffesso Washington invece prega New York di farsi ridare la pick ovviamente e di conseguenza il resto delle pick cade di valore perché New York appunto dice beh io potenzialmente ti do una pick 1 una pick 2 e una pick 3 ridandoti la tua scelta allora fammi uno sconto sulle altre a Washington sostanzialmente interesserebbe riprendersi la propria pick per poter tencare in tutta libertà poi porta a casa Barrett Grimes e Toppin che in un'ottica di rebuilding bisogna vedere come vanno come si trasformano soprattutto Barrett in ottica rebuilding in ottica comunque di libertà in fase offensiva molto più che a New York bisogna poi vedere cosa succede come ci lavorano eccetera eccetera però diciamo che tutto sommato questa trade ci sta alla fine New York libera ulteriormente spazio salariale poi negli anni successivi non rifirmando Wright rifirmando probabilmente Morris o estendendolo e alla fine libera due contratti brutti come Rose e Fournier da via tre giovani qualche pick però prende Bradley Bill per almeno cercare di hissarsi al top dell'est e soprattutto convincere finalmente qualche free agent accettano ad andare a giocare a New York insieme a Bill e non a Evan Fournier mister venti punti nelle mani o a Julius Randall Keck W la prossima trade ovviamente riguarda sempre i Boston Celtics perché ovviamente la pista Bill ai Celtics non è chiusa perché appunto essendoci il contratto di Jalen Brown sul piatto è normale che i Boston Celtics vadano a bussare forse alla porta dei Washington Wizards la trade l'abbiamo già vista in tutte le salse alla fine i contratti sono quelli le pick sono quelle quindi ovviamente parlo veramente poco di questa situazione perché l'abbiamo già vista e rivista però sostanzialmente sarebbe Bill Morris e tre pick swap da parte dei Wizards i Celtics invece manderebbero il contratto in scadenza di Gallinari il contratto da estendere di Brown il biennale di Derek White la team option di Prechard tre pick swap e la pick 26 invece fissa e secca perché questo beh allora la pick 25 essendo che è un pick swap i Wizards si tengono il diritto di scegliere meglio dei Boston Celtics però ovviamente con Bill e Tatum a roster nel 2025 la proiezione è che ovviamente Boston sia a giocarsi il titolo se non a vincerlo quindi Washington tiene la sua pick e i Celtics tengono la loro pick e questo è per il 2025 per forza di cose nel 2026 i Celtics devono dare la pick non protetta nel 2027 invece iniziano a farsi le cose interessanti perché Bill e Tatum potrebbero andare via o meglio Bill è in scadenza Tatum probabilmente avrà esteso al super massimo e quindi sarebbe altri due anni a Boston però c'è il contratto in scadenza di Bill quindi potrebbe essere che magari Bill va via o viene scambiato o Boston implode e allora la pick 27 così come la pick 29 a maggior ragione sono favorevoli per il pick swap da parte dei Washington Wizards con quella dei Boston Celtics ovviamente i Celtics però vanno anche a chiedere Monte Morris perché comunque è un contratto annuale fa comodo i Celtics i Wizards sono già contenti con Jalen Brown comunque un giocatore comunque ripeto non è un cattivo giocatore Jalen Brown adesso si fa passare come un palo della luce insomma Brown non è un palo della luce non è sicuramente un fenomeno non è sicuramente una super giga mega star però è un giocatore di tutto rispetto un giocatore di rilievo è una star comunque è un giocatore da 25 di media non dico facili però tranquilli mettiamola così pick 2027 che potrebbe essere molto buona 3 pick swap di cui 2 possono essere molto interessanti 27 e 29 in particolare ovviamente ai Wizards potrebbe andare anche bene così non credo che vengano inseriti altri giocatori potrebbe essere inserito Orford se vogliono liberarsi di Orford però dovrebbe essere inserito anche De'Lon Wright o Abdigia in quel caso credo che così vada bene per di più i Celtics liberando questi 4 milioni e mezzo scendono sotto la tassa e libererebbero la Non Taxpayer Mid-Level Exception in questo caso vi faccio vedere che i Celtics sarebbero 340 mila dollari quindi letteralmente lì lì sotto la tassa e di conseguenza Non Taxpayer Mid-Level Exception sbloccata per quanto riguarda i Boston Celtics questo ovviamente è una trade che la maggior parte delle persone sperano che non accada mai perché dicono oh che bello finalmente l'Era Warriors è finita e invece lo streamer manda Bill ai Warriors e quindi rage subito e bestemmie contro lo streamer allora qualcuno potrebbe dirmi i Nets non danno abbastanza per Wiggins il problema è un altro il problema è che i Nets si mettono in mezzo perché i Warriors data la nuova super tassa a cui sono soggetti non possono ricevere negli scambi più di quello che inviano quindi per forza di cose devono dare più soldi di quelli che ricevono se dovesse arrivare Bradley Bill Poole è obbligatorio Wiggins non credo Clay Thompson è obbligatorio e in questo caso Gary Payton quindi Wiggins sarebbe sacrificato per quale motivo Wiggins sarebbe sacrificato semplicemente per che cosa per fare spazio a Bradley Bill ad ogni modo i Nets cosa danno danno la pick 2025 che ovviamente Houston ha il diritto di scambiare quindi Houston potrebbe prendere la pick quella pick se è più vantaggiosa di quella ovviamente di Houston quindi quel tipo di pick la girano ai Warriors che così tengono la loro scelta e la loro scelta la mandano a Washington quindi la 2025 primo turno va ai Warriors i Warriors scelgono nel 2025 quindi possono mandare la loro la loro pick ora ovviamente Bill ai Warriors sarebbe insomma Steph Bill Clay Draymond Looney sarebbe una sarebbe bestiale ovviamente sarebbe una fase offensiva mostruosa avrebbero tre dei migliori tiratori in NBA avrebbero comunque Draymond e Looney sotto le planche a difendere a smistare comunque Looney l'abbiamo visto in questi playoff letteralmente spostare montagne a rimbalzo e ovviamente l'arrivo di Bill sarebbe clamoroso per di più vanno a prendere Dorian Finney-Smith in questo caso e comunque i Nets prendono Wiggins cioè nel senso qualcosina devono dare ok è vero i Warriors contattano i Nets per facilitare lo scame perché devono spostare Wiggins però prendono Finney-Smith che in ottica Warriors ricalca perfettamente quello che serve a loro cioè un giocatore che tira ma che difende come un pazzo quindi Finney-Smith può entrare nella small death line up a tutti gli effetti quindi Steph Bill Clay Finney-Smith Green se necessario può dare minuti di riposo sia Bill sia Clay sia Draymond Green se necessario può giocare sia da 3 che da 4 3 anni di contratto che si sposano bene con quelli di Steph e con quelli di Bill prendono 2 seconde perché comunque ripeto i Nets prendono Wiggins quindi i Nets migliorano migliorano bene hanno Bridges e Wiggins in questo caso con Ben Simos con Clexton sbolognano Joe Harris cioè i Nets qualcuno può dirmi i Nets comunque danno via troppe picche e finì Dorian Smith sì ma prendono Wiggins cioè nel senso ecco non è una cosa così schifosa il Wiggins di questo periodo De'Lon Wright ovviamente va in Nets perché viene mandato Joe Harris perché ovviamente Washington cosa ti dice Washington ti dice ma sì dai mandamelo quindi sarebbe Joe Harris è la seconda di quest'anno la numero 51 per De'Lon Wright sostanzialmente ci sarebbe poi invece dalla sponda Washington Wizards arrivano Harris contratto in scadenza Gary Payton per prendere Bill si sacrifica Poole ovviamente ne abbiamo già parlato in un altro video sacrificabilissimo per prendere Bill e poi ovviamente pick al draft quindi la 25 la 26 sono con Bill a contratto e con Steph a contratto quindi potenzialmente sono pick basse quindi va bene la 27 ovviamente è un pick swap e la 28 per quanto riguarda i Golden State Warriors si proteggono con una top 10 protetta ovviamente in questo caso cosa sarebbe protetta 1-10 nel 2028 se la protezione viene non viene rispettata si va 1-8 nell'anno successivo se non viene rispettata 1-6 eccetera come fanno di solito che abbassano la protezione anno per anno questa trade tecnicamente andrebbe a vantaggio di tutte Washington tanka prende Poole che comunque quello di due anni fa era un signor giocatore ed è valso quel contratto poi quest'anno ovviamente dopo la scazzottata con Dremon Green si è perso però arrivano 3-4 pick al draft al primo giro e Jordan Poole più un contratto in scadenza che Joe Harris più un contratto biennale basso come Gary Payton i Warriors prendono Bill Finney-Smith e la pick 2025 perché comunque è la pick 2025 che prendono e due seconde di contorno i Nets prendono la scadenza di DeLon Wright ma prendono Andrew Wiggins che è un quadrennale quindi lo possono portare avanti con Michael Bridges e avere comunque non una squadra ipertencante però una squadra interessante se Ben Simmons nonostante aver messo ancora foto su Instagram del suo ritorno in palestra decide che quest'anno è l'anno buono e lo speriamo più o meno tutti soprattutto a Brooklyn lo sperano e diventa una squadra carina dai insomma Simmons Clexton Wiggins Bridges Cam Thomas se gli viene dato più spazio è una squadra interessante carina giovane rapida atletica veloce è una squadra comunque che si tiene su un certo livello tutto sommato nonostante tutto ripeto per me questa trade va a vantaggio di tutte e tre assolutamente va a vantaggio di tutte e tre assolutamente ora sappiamo che Lillard vuole rimanere a Portland e Portland vuole muovere la scelta numero tre per vabbè io spero che tradino Lillard e non muovano quella tre però se la tre deve andare da qualche parte è direzione Washington Wizards ovviamente per prendere Bradley Bill e qualcuno mi dice ma scusa è impossibile che Portland possa prendere più di 17 milioni in trade e la trade può accadere si ragazzi si può fare perché perché Portland ha un sacco di room space è sotto al salary cap di circa 40 milioni quindi può assorbire 40 milioni in più da una trade in questo caso 17 milioni di Bradley Bill no in realtà non è vero però comunque si può fare nonostante il differenziale sia più 17 per Portland quindi la trade ovviamente sarebbe Simons due giovani cioè in realtà Knox lo tagliano Keon Johnson possono accettare la team option e ovviamente la pick 3 nel senso secondo me Washington bacia per terra se trade a B la Portland per una pick 3 di quest'anno la trade è molto straightforward vince Washington a mani basse questa trade Portland non vince nei prossimi cent'anni con Lillard e Bill visto la squadra che ha Washington ovviamente si mette in ottica pick 3 e ci gongoliamo con Brandon Miller o con Scoot Anderson bisognerà vedere chi sceglierà la 2 Charlotte anche se pare come avevo già detto in altro video che pare sia Brandon Miller la loro pick perché appunto Scoot Anderson è un playmaker e c'è già la Meloball quindi non vogliono rischiare non vogliono affiancare Scoot alla Melo preferiscono invece prendere Brandon Miller che a livello di indagini poliziesche non è messo meglio del del wrestler del nostro boxer di fiducia Miles Bridges però è un rimpiazzo suo quindi nel caso appunto gli Ornets decidessero di non di non tenere Miles Bridges per ovvi motivi arriverebbe Brandon Miller che è un suo degno successore a livello di comunque di giurisdizione a livello di casi polizieschi anche lui si è dato da fare quest'anno ultima trade è un pochino più strana effettivamente però è un po' che non mettevo i Thunder come squadra in mezzo a una trade effettivamente e in questo caso si andrebbe a parlare di Atlanta Ox perché comunque gli Ox metterebbero le mani sia su Bradley Bill sia su Daniel Gaffo in questo caso perché perché ovviamente manderebbero De'Jounte Murray e John Collins ai Washington Wizards oltre ad E.J. Griffin 19 anni e Jalen Johnson 20 anni più la pick Sacramento 2024 dell'anno prossimo e occhio perché non è detto che quella pick sia una pick come quella di quest'anno cioè attenzione non è detto che Sacramento faccia la stessa stagione l'anno prossimo ok quindi quella pick 24 dei Sacramento Kings potrebbe essere molto molto buona in più arriva la 15 di quest'anno e in più ovviamente nel 2029 una pick protetta top 10 che poi diventa protetta top 8 top 6 insomma la solita tiritera perché perché spostare Murray nonostante l'amicizia con Trae Young perché Bradley Bill è un giocatore migliore di John e Murray e questo è innegabile possiamo prenderci in giro quanto vogliamo ma è un giocatore migliore Bradley Bill qualcuno potrebbe chiedermi ma la convivenza con Trae Young non è forse un po' come dire incerta ovviamente sì onestamente sì nel senso non ci nascondiamo è normale ma questo tipo di trade le fai perché speri che la convivenza sia ovviamente facile sia accettabile anzi dia i frutti sperati di certo non fai sta trade per sperare che Bill vada meglio tu fai questa trade perché sei sicuro che Bill vada meglio con Trae Young poi ovviamente il campo potrà dire il contrario potrà invece potrà dire l'opposto questo non lo possiamo sapere però sulla carta comunque è un rischio che ti prendi per Bradley Bill affiancarlo a Troione ti liberi di Collins finalmente Dejante Murray è in scadenza quindi lasci ai Wizards l'honore di rifirmarlo nonostante appunto Murray sia valso tre picca al primo giro l'anno scorso e però non ha funzionato quest'anno 41-41 di record lo ricordiamo e Dejante Murray possiamo dire tutto ma non che abbia giocato una stagione incredibile parliamoci chiaro ma nessuno degli Atlanta Hawks ha giocato una stagione incredibile ma nello specifico Murray non ha di certo brillato in senso assoluto poi nella mediocrità di Atlanta di quest'anno probabilmente è stato il migliore degli Hawks ma non ne sarei così sicuro obiettivamente parlando quindi è chiaro che vai a prendere Bill in senso chi se ne frega cioè Murray lo sfanculi lo porti tu a piedi alla casa bianca e ti prendi Bill cioè nel senso liberano pure spazio salariale sia loro che i Wizards perché ovviamente i Thunder fanno salary dump quindi siccome vai a prenderti Gafford perché comunque il pacchetto per Bill non è male quindi anche un Gafford messo dentro arrivando Collins e forse stendendo Porzingis puoi fare Porzingis Collins se vuoi andare in quella direzione allora a questo punto Gafford non ti serve Collins per me fuori d'Atlanta è un giocatore migliore di Gafford in senso assoluto comunque sarebbe De'Jounte Murray giovane lo puoi estendere Collins tre anni di contratto ci sta e la trade con Oklahoma City è per il touching Jalen Johnson giovanissimo AJ Griffin giovanissimo pick 15 pick potenzialmente altissima dei Sacramento Kings o comunque altina e poi una pick negli anni molto futuri secondo me Washington è aperta a tradeare sia Bill che Gafford nello stesso pacchetto per questo pacchetto nello specifico per quanto riguarda i Thunder fanno quello che abbiamo sempre detto cioè fanno salary dump ai Thunder manca un centro parliamoci chiaro non ce l'hanno cioè Holmgren non è un centro ok Holmgren è uno stretch four non può giocare cinque non ha il fisico per poterlo fare Cappela per un paio d'anni con un contratto modesto perché comunque è un contratto modesto 20 milioni ripeto il salario cap aumenterà a 134 quest'anno a 143 l'anno prossimo a 150 fra due anni cioè 20 milioni oramai sono un contratto standard ma veramente basso basso cioè è quasi una mid level exception oramai nel senso la non taxpayer mid level exception è proiettata sui 12 milioni Cappela ne prende 21 cioè per dare l'idea di quanto oramai la differenza si sia sottigliata De'Lonvrite è in scadenza quindi ai thunder va benissimo prendere scadenze prendono due seconde gli ox danno anche due seconde ovviamente per facilitare lo scambio prendono indietro un huaba tramite una team exception e una trade exception perché è una team exception una trade exception e e anche qua secondo me ci guadagnano tutte Atlanta fa Young Bill che sulla carta è decisamente meglio di tutto quello che hanno avuto fino adesso portano a casa pure Gafford che come Cappela 2.0 va bene finalmente si sbolognano si liberano di John Collins perché è tipo 4 anni che vogliono tradearlo liberano spazio salariale per poter anche andare a firmare qualcun altro in off season i Wizards risparmiano soldi prendono Murray che possono estendere o rifirmare oppure possono ritradare alla trade deadline volendo John Collins lo provano vedono come va 3 man team option facile facile Jalen Johnson team option facile facile AJ Griffin 19 anni tutto il tempo del mondo a Washington hanno tutto il tempo del mondo 3 pick di cui 2 1 a 15 ok onesta l'altra quella di Sacramento invece ripeto perché non è detto che Sacramento l'anno l'anno prossimo faccia la stessa stagione di quest'anno ok non è per niente detto e quindi quella ripeto quella pick lì è quella su cui verte tutto questo scambio comunque insomma Washington magari non prende tantissime pick al draft però prende 4 giovani tutto sommato 5 con 3 man più una potenziale pick alta fra molti anni più una 15 di adesso che comunque insieme alla loro 8 comunque permette un rebuilding tranquillo la 2024 dei Sacramento Kings considerando che la loro ce l'hanno in X è comunque quella di Sacramento ripeto vorrei sottolineare questo concetto non è detto che la pick di Sacramento dell'anno prossimo sia quella di quest'anno che i Kings ricalchino quella stagione quindi potenzialmente quella pick di Sacramento potrebbe essere molto golosa ok per quanto riguarda i Thunder scadenza di De'Lon Wright altre 2 secondi tanto il Capspace ce l'hanno non serve a nulla non credo che i Thunder quest'anno andranno per per nulla onestamente quindi anche quest'anno faranno salary dump altre pick al secondo giro eccetera eccetera Capella in un'ottica però di una squadra che vuole almeno andare al play-in per me Capella ci sta in questo Oklahoma City è un ottimo screensetter è un ottimo rimbalzista può anche fare da molte virgolette chioccia a Holmgren non vuole la palla in mano cioè Holmgren può tenersi la palla in attacco Capella difende in difesa prende rimbalzi in difesa Holmgren lo lasciano ovviamente svezzare in fase offensiva con Shai con Giddi con Dort e con insomma Pokusevski e tutto tutto il resto della cricca dei giovanotti dei Thunder più Jalen Williams Jalen Williams la pick di quest'anno insomma Capella andrebbe lì sostanzialmente a mettere su rimbalzi a fare cifre notevoli per eventuale un nuovo scambio come ci hanno abituato i Thunder e insomma quindi Capella non è un giocatore che va lì a ad Oklahoma City e rimane lì magari verrà mosso di nuovo però prendono anche due secondi i Thunder secondo me sono contenti ripeto non hanno particolari cioè i Thunder vengono usati come puttana dell'NBA per questo motivo credo che anche in questo caso Presti non abbia problemi nell'accollarsi Capella e una scadenza anche perché Capella poi scade l'anno prossimo quindi poi possono muovere l'anno prossimo volendo però secondo me come tipologia di giocatore e per quello che vuole fare Oklahoma City cioè vuole comunque andare verso la zona play-in più che tankare ancora Capella può rientrare nei piani di quest'ottica quindi niente queste secondo me sono le trade più plausibili per Bradley Bill quella più plausibile di tutte attenzione attenzione lo dico è quella con i New York Knicks perché il fatto che i Knicks abbiano la pick di Washington se vogliono tradare Bill Washington rivuole la sua pick e l'unico modo per riavere quella pick è con New York è tradare con i Knicks quindi secondo me la trade con i Knicks è quella più fattibile è quella più plausibile qualora A i Wizards vogliono scambiare Bill B New York è interessata fatemi sapere cosa ne pensate alla situazione di Wizards secondo voi devono invece migliorare il roster tenendo Bill oppure scambiare tutto e perché proprio con i Knicks per riprendere la loro pick io vi ringrazio vi saluto ci vediamo this week Grazie a tutti.